salve a tutti e benvenuti sul canale tessilanda io sono andrea e questa è la rubrica del come fare dopo il grande successo delle reti molte di voi mi hanno chiesto ma ce lo fai un video sul termo indurente io non mi faccio mai pregare e quindi sono qui oggi per farvi vedere le varie tipologie di termo indurente andiamo a vederlo nel dettaglio vediamo quindi nel dettaglio i termo indurenti allora ci sono di varie tipologie di termo indurenti ci sono quelli di media rigidità e il termo indurente salpa come vedete sono in vari colori noi dividiamo così i chiari e gli scuri che servono giustamente per poter abbinare al meglio il colore alla vostra borsa vediamo più nel dettaglio queste due tipologie qui allora prendiamo nell'esempio i due termo indurenti quello di media rigidità e il termo indurente salpa qual è la differenza sostanziale tra questi due termo indurenti è che questo sarebbe il salpa a una parte che sembra una sorta di ecopelle e su questa parte qua non si può attaccare nulla e dietro alla parte con la colla dove si potrà applicare il nostro tessuto il termo indurente invece di media rigidità si presenta da ambo i lati con la stessa trama la stessa maniera quindi su una parte comunque c'è molta più colla e su un'altra invece ce n'è molto di meno da cosa ve ne potete accorgere perché quando lo andate a muovere vedete che c'è una lucidità sicuramente dal video non si vederà bene ma è una parte come se ci fossero dei brillantini quello non è nient'altro che la colla applicata all'interno ma vediamo adesso nel dettaglio come poterlo applicare la prima cosa che ci tengo a dire attenzione questi termo indurenti non possono essere applicati direttamente sul lavoro almeno che non si faccia una manovra particolare il termo indurente ha la stessa utilità della rete però è molto più maneggevole vi faccio vedere quindi nel dettaglio come poterla applicare noi dobbiamo utilizzare un ferro da stiro qui adesso nascono le polemiche di chi dice con il vapore senza vapore io utilizzo senza vapore poi abbiamo bisogno del tessuto e io ho preso il nostro tessuto fodera ottoman e andiamo a vedere come poterlo applicare quindi questo è il termo indurente abbiamo detto di media rigidità lo mettiamo sotto mettiamo il nostro tessuto sopra ben teso e lo passiamo con il ferro da stiro io adesso farò solo un piccolo pezzettino così vi faccio vedere come si attaccherà la colla dopo il termo indurente di media rigidità ha bisogno di qualche minuto per potersi asciugare perché altrimenti si staccherebbe subito la colla comunque sia dopo che gli abbiamo dato il calore si scioglie all'interno del termo indurente si applica al tessuto e come vedete abbiamo aspettato davvero poco ma il termo indurente già applicato io ho fatto anche una prova per potervi far vedere anche prima eccolo qui questo è stato applicato termo indurente come vedete lo possiamo applicare sia da un lato che dall'altro quindi nel momento in cui facciamo la nostra borsa e abbiamo una borsa con una lavorazione molto traforata non vogliamo far vedere giustamente un termo indurente ma abbiamo bisogno di una rigidità noi possiamo applicare la nostra fodera e poi ci sarà il lavoro possiamo dargli qualche punto a proposito dei punti quando diamo i punti per poterla fermare sulla borsa il termo indurente è molto rigido vi faccio vedere con un ago prendiamo un ago e come vedete è complicato poter bucare il termo indurente davvero è complicato quindi dobbiamo cucirlo sulla nostra fodera che risulterà sempre molto più semplice un'altra cosa che possiamo andare a vedere adesso invece il termo indurente salpa e che ce l'abbiamo qui cosa abbiamo detto che c'è un lato che non non mostra colla è un lato dove c'è una sorta di ecopelle quindi questo termo indurente solitamente viene utilizzato per l'interno quindi applichiamo il nostro tessuto adesso vediamo subito sempre col nostro ferro da stiro lo mettiamo sopra e diamo semplicemente il nostro ferro da stiro appoggiandolo sopra state attenti quando fate questo movimento che non ci siano delle grinze basta poco pochi secondi di ferro da stiro ed ecco qui che il nostro termo indurente si è già applicato sul salpa questa sarà la parte che dovrà andare in vicino al vostro lavoro traforato ma non tutti facciamo una borsa traforata eccetera 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 qualcuno adesso chiederà si può applicare un termo indurente con il lavoro una fodera il termo indurente e un'altra fodera è un estremismo sicuro ma tessiland l'ha studiato ed è questa tipologia di colla questa colla da modo di poter applicare il tessuto a un lavoro a maglia senza utilizzare le tipiche colle che sono quelle diciamo liquide che giustamente potrebbero a entrare all'interno del vostro lavoro ma controlliamo subito come fare vediamo abbiamo una lavorazione a maglia come vedete io qui ho fatto già la mia prova abbiamo questa lavorazione a maglia noi cosa facciamo prendiamo la nostra colla la agitiamo e spruzziamo creando come vedete c'è un alone si crea una sorta di alone in questo modo poi mettiamo il nostro tessuto sopra lo facciamo un attimo aderire e poi passiamo il nostro ferro da stiro attenzione a questa cosa appunto per particolare perché se avete delle borse di lana ricordatevi che la lana con il calore potrebbe dare il famoso effetto lucido quindi stiamo sempre attenti quando facciamo questo lavoro il primo passaggio noi l'abbiamo fatto ora aspettiamo qualche minuto dopo che abbiamo aspettato qualche secondo vediamo che si è attaccato benissimo al nostro lavoro quindi abbiamo una fodera applicata sul lavoro a maglia ma abbiamo bisogno ora di irrigidire quindi prendiamo il nostro termo indurente io vi chiedo vi dico sempre spruzzatelo anche qua visto che ci siamo inserite il vostro termo indurente e poi mettete sopra l'altro pezzo di fodera e andiamo sempre a lavorare con il ferro da stiro dandogli la giusta pressione in modo che anche quest'altra parte si possa incollare bene ricordate sempre un'altra cosettina nel momento in cui noi abbiamo fatto questo lavoro ricordiamoci che abbiamo bisogno di rifinire quindi lasciatevi dello spazio per poter ripiegare la vostra fodera ricucirla ed essere da avere un lavoro pulito avete visto sono passati veramente pochissimi secondi guardiamo il risultato abbiamo il termo indurente la rete cioè chiedo scusa abbiamo la fodera il termo indurente la fodera che va a contatto con il lavoro esterno quindi se un traforato lo vedo e il nostro lavoro a maglia abbiamo creato la nostra borsa e abbiamo irrigidito e davvero è rigida questa borsa in pochissimi passaggi e velocissimi riguardiamo un po il tutto così facciamo un po di mente locale e dopo che abbiamo visto come fare per poter applicare un lavoro a maglia con la colla facciamo un pochettino una visione generale allora termo indurente di media rigidità si può incollare sia da un lato che dall'altro come abbiamo visto in questo caso ribadisco che difficilissimo se non addirittura quasi impossibile poter cucire tra queste tre strati quindi lasciate sempre il vostro pezzo applicatelo giratelo fate il vostro orlino e cercate di creare un lavoro il più pulito possibile e questo è quanto riguarda il termo indurente di media rigidità poi abbiamo visto il salpa che si può applicare solo da un lato come in questo caso attenzione mai passare il ferro da stiro su questa parte perché questa essendo una parte di similpelle si attacca completamente al ferro da stiro come in questo caso quindi questo questa tipologia di termo indurente salpa lo possiamo applicare solo da questo lato come abbiamo fatto in questi casi come vedete la colla è molto resistente ma in questa situazione qua voi potete dare anche dei punti intorno perché è molto più semplice anche poter cucire e creare il vostro lavoretto fatto bene bene e poi abbiamo visto per ultimo l'applicazione della colla su un lavoro direttamente con la parte di fodera oppure lavoro come in questo caso fodera termo indurente di media rigidità e poi ancora la fodera ebbene sì siamo arrivati anche al termine di questo brevissimo tutorial che spero vi abbia dato un po più di chiarezza su il termo indurente che è un elemento diciamo quasi fondamentale per poter creare una borsa insieme alla rete e alla vostra creatività e come sempre io vi dico facile facile e facile ora se vi è piaciuto questo video mettete un like seguiteci su tutti i vari social e vorrei una cosettina riusciamo arrivare a 30 mila iscritti quindi condividete sempre di più questo video in modo che la nostra comunità cresce sempre di più e come sempre allora io con i miei bellissimi termo indurenti io vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial ciao ciao